Uno dei primi video del nostro canale, ormai stiamo parlando di circa un anno fa, fu sulla sicurezza. Nello specifico ho acquistato un lucchetto, che erano le famose manette, tra virgolette, e l'ho buttato sul tubo dicendo che erano le più sicure in circolazione. Poi Domenico, adesso lo presento. Domenico, benvenuto sul nostro canale. Grazie, grazie ragazzi, sono contentissimo di essere qui con voi. A te la parola. Ma Domenico si diletta, fa uno sport un po' particolare. Anzi, facciamo una cosa. Adesso ovviamente vi lascio il tempo di iscrivervi al canale, perché è indispensabile. Abbiamo passato oggi, cioè da poco, i 5.000 iscritti, quindi sono contentissimo. Vi invito a lasciare tanti mi piace e andiamo con la sigla e poi dopo passiamo la parola a Domenico. Quindi sigla! Ok, rieccoci ragazzi. Quindi spiegaci un pochino innanzitutto chi sei, cos'è il lockpick, e poi spieghiamo un po' tutta la nostra storia, da come è iniziato e come si è evoluta. Certo, certo, grazie tante, non ti preoccupare. Allora, questo sport si chiama lockpicking, praticamente è la manipolazione di serrature e lucchetti con strumenti come i grimaldelli o altri accessori. Allora, che cosa avviene nel mondo del lockpicking? Il lockpicking innanzitutto qui in Canada e Stati Uniti è buona parte del mondo, è considerato un hobby, uno sport. Infatti si fa... Già, giusto, perché scusami se ti interrompo, ma mi sono scordato di dire che te sei un italiano che vive all'estero, in Canada. Esatto, sì, io sono italiano, vivo all'estero, in Canada, da moltissimo tempo. Sono vent'anni circa che io pratico la manipolazione di lucchetti e serrature. Ho disegnato anche per alcune aziende, alcuni sistemi di blocco, e poi alla fine è diventato, diciamo, un gioco, un divertimento il tentare appunto di aprire, manipolare le serrature senza romperle, perché può capitare che si perde una chiave, e può capitare una situazione di emergenza. Considera che qui in Canada e Stati Uniti addirittura i paramedici, i vigili del fuoco, eccetera, conoscono queste tecniche per poter aiutare le persone in caso di estrema necessità. Beh, certo. Quindi, allora, innanzitutto vogliamo rassicurare tutti, non è un ladro, eh? Lui si occupa di tutta un'altra cosa, però questa è un'arte ormai, possiamo dire, che l'aprire qualche... una serratura è un'arte, quindi abbiamo un artista delle serrature. Vorrei ripartire con lo spiegare come ci siamo conosciuti, dal video che abbiamo fatto sulle manette e poi dopo andiamo avanti spiegando un attimino cosa è successo, come ci siamo scritti, come ci siamo iniziati a parlare, diciamo. Sì, sì, certo. Allora, io intanto sono un accanito, come si dice, appassionato appunto di elettronica. Sai, quando sei su YouTube, quando sei una persona a cui piacciono determinate cose, sembra che YouTube ti venga a cercare, cioè ti indicizzi e ti fa vedere le cose che più ti piacciono. È solo capitato così sul tuo canale, vedendo appunto gli scooter elettrici, perché sai, i miei figli anche sono molto appassionati di queste cose. E quando ho visto quel blocco, appunto le manette della Masterlock, mi pare, che sia quella del brand, della marca, ho detto, beh, no, io non proteggerei mai assolutamente un mio monopatino, una mia bicicletta con questo, perché è facilissimo da aprire con gli appositi decoder. Da lì ho lasciato un commento, ma era un commento appunto come per dire, ragazzi, occhio, perché ci sono magari altri sistemi di blocco che sono molto più validi che non affidarsi a quello in specifico, perché in pratica in 20-30 secondi al massimo si può aprire senza danneggiarlo, cioè proprio in una maniera più semplice possibile. E da lì è nato tutto, diciamo. Infatti io, allora, innanzitutto chiedo scusa ai nostri follower, ai nostri seguaci per aver venduto, tra virgolette, per le manette come il dispositivo più sicuro del mondo, ma io sinceramente non ero a conoscenza. E poi per la fattura, per la forma, mi sembravano perfette per il monopattino. E secondo me lo sono ancora, per brevissime soste probabilmente sono ancora buone, ottime, valide. Però adesso ti confesso questa cosa. Quando ho letto il tuo commento su YouTube, io mi ricordo che ho guardato YouTube Studio e ho fatto ma adesso a questo gli do una risposta non carina. E invece poi dopo ho detto, vabbè, aspetta, ma se mi ha detto una cosa del genere, un motivo ci sarà. E per quello io gli ho detto, ok, allora insegnami. Perché noi siamo nuovi del mondo del tubo, siamo nuovi del mondo dei monopattini, per virgolette, però siamo propositivi, cioè a noi ci interessa sapere e imparare. Quindi ho detto, vediamo un po' cosa ha da dirmi. E da lì siamo arrivati qui a questo video, insomma. Sì, sì, siamo conosciuti. Grazie per il tuo commento. Grazie, no, ma grazie a te innanzitutto di non avermi mandato a quel paese, perché comunque in effetti, cioè, poi sai cos'è il discorso? Noi qui in Canada siamo abituati, cioè così a dialogare, a volte siamo un po' diretti, a volte anche ingenui, no? Invece a volte in Italia si prendono le cose sul serio, ci si arrabbia. Sì, troppo. E' un po' easy, ecco, infatti no. Però è stato bello perché comunque abbiamo continuato a sentirci, ci siamo confrontati, abbiamo trovato un punto di accordo su quello che si può fare, quello che non si può fare. Ripeto, non è che tutti vanno in giro con un decoder per aprire i lucchetti. No, per fortuna. No, per fortuna, però il fatto è che comunque sono di libera vendita, cioè comunque si possono commercializzare. Ma quindi si possono acquistare tranquillamente questi decoder? Si possono acquistare sia i decoder che tutta un'altra serie di strumenti, appunto come i Grimaldelli e altri decoder particolari, perché c'è chi lo fa come mestiere. Io ad esempio ho due licenze, una in Canada, presa all'Ontario College of Trade e un'altra negli Stati Uniti, che mi permettono non solo di operare in maniera tutta sicura, ma anche di portarli nella macchina, nella mia valigia. Io ho una valigia attrezzatissima dove quando necessita la tiro fuori, vado anche a fare dei corsi per personale che ne ha bisogno. Quindi voglio dire, io lo posso fare, ma chiunque può detenere in casa o anche nella famosa cassettina degli attrezzi che hai magari nello scooter, sotto il sellino o in auto, puoi tenere insieme alle pinze e cacciaviti anche tre o quattro strumenti che se nel caso tu ritorni a casa e non hai le chiavi, puoi aprirti la serratura di casa o puoi sbloccarti. Cioè, tutto senza danneggiarlo e toglierti dai guai. Questo sì. Io sono tranquillo, rimarrai fuori. Ecco, no, sicuramente se hai magari dei precedenti penali o comunque sì, hai combinato qualcosa di brutto nella vita e ti fai trovare alle due di notte attaccato ad una macchina, lì non c'è storia che tenga, ti portano via e poi buonanotte si chiama l'avvocato. Fai fatica. Esatto, ma il lockpicking è tutta un'altra cosa. Si pratica appunto a casa, tra le mura domestiche, nel garage. Si fanno anche delle gare, delle competizioni. Qui è molto famoso. Cioè, bisogna vederlo da quel punto. Anche perché un malintenzionato adesso usa delle tronchesi idrauliche, cioè, spacca tutto, quello non è lockpicking, quello è vandalismo. È un altro discorso. Lo fai di lavoro? Cioè, come sei arrivato ad avere questo hobby, questa passione del lockpicking? Ma guarda, io, ripeto, sono circa vent'anni che sono nel settore della sicurezza e ho curato, appunto, io provavo le serrature, cioè provavo la sicurezza di alcuni sistemi di blocco. Io sono specializzato in serrature biometriche, che sono serrature un po' particolari, che hanno bisogno di consensi, appunto, come le impronte digitali, sviluppiamo sistemi di controllo di questo tipo, tracciature, eccetera. Poi da lì, chiaramente, la parte elettronica è sempre collegata ad una parte meccanica, perché l'impulso elettrico deve comunque agire su un meccanismo. E questo meccanismo a volte può essere bypassato. Quindi, una volta che l'elettronica ha finito di fare la sua parte, bisogna testare effettivamente quanto il blocco meccanico sia sicuro da interventi, appunto, esterni come sonde, bypass, appunto, strumenti particolari, palpatori, si chiamano tastatori, che possono comunque entrare all'interno e fare il lavoro che dovrebbe fare un micromotore oppure un elettromagnete, un elettrocalamita, un elettrovalvola, dipende poi dal sistema di sicurezza. Da lì, chiaramente, poi si va un pochino, si scende e si va sull'eserro. Da poi, dopo lì, parte il tutto. Esatto, sì. È una ruota, cioè, diventa come il monopattino. Esatto, però è una ruota. Uno prova il primo, poi dopo da lì parte tutto quanto. Esatto, vai poi al contrario, perché chiaramente poi esistono le serrature domestiche, le serrature commerciali, i lucchetti di uso comune, che possono essere anche quelli ad arco, e c'è tutto un meccanismo dentro. Dentro un lucchetto, ad esempio, abbiamo appunto il nucleo dove tu inserisci la tua chiave, i perni inferiori, i perni superiori, le molle, che sono appunto quei delicati meccanismi che fanno poi allineare i perni in un certo modo, superano... Io intanto sotto farò andare un po' il tuo video nel quale apri, purtroppo, le nostre manette. Purtroppo. Ma comunque, se volete, se tutti voi volete approcciarvi al mondo del lockpicking e conoscere le meccaniche appunto di lucchetti e serrature e tutti i segreti che ci sono dietro comunque quest'hobby, io ho fatto un manuale, vi dico la verità, che potete trovare sul mio sito web dove si spiega proprio con fotografie, eccetera, ha un costo ridicolo, quindi penso dovremmo essere intorno ai 10 euro, ma è molto completo perché ci sono i miei trucchi, ci sono tutti i metodi, vi faccio vedere le serrature, vi spiego i perni, le molle e lì ho raccolto tutte le tecniche e tutti i segreti più efficaci, c'è tutto quello che un buon lockpicker potrebbe sapere sta lì dentro. In descrizione trovate tutti i link, sia al sito sia al canale YouTube perché è un collega, è un youtuber anche Domenico, esatto, e quindi trovate tutto quanto in descrizione chi è che volesse andare a farsi una cultura, ovviamente, esatto, anche a curiosare, io l'ho fatto, fatto prima di voi, quindi andate tranquillamente, è molto ben fatto, un sacco di cose e non è detto che non compri anche il libro perché questa cosa mi ha appassionato, io mi sono messo a guardare qualche video sul canale di Domenico e sono rimasto a bocca aperta di come sia bello e rilassante anche fare questa attività. Guarda, su questo ho deciso di fare una cosa, il manuale te lo mando in regalo, tanto comunque è in formato elettronico, te lo invio perché voglio che mi dai un'occhiata e mi dici cosa ne pensi. Quello è un regalo che ti farò assolutamente. Ben volentieri. Rifacendo ancora un passo indietro, dopo aver sentito Domenico, gli ho detto, ascolta, ok, abbiamo capito che purtroppo le manette non sono il top di sicurezza, però io ho anche un altro lucchetto che avevo comprato per la bicicletta elettrica di mio padre. E gli ho detto, secondo te questo com'è? Anche perché la domanda che mi è sorta spontanea è, ok, Domenico, te mi dici che questo lucchetto non è buono, però dammi un'alternativa. Lui mi ha detto, guarda, c'è questo, questo e questo. E poi dopo gli ho detto, dammi un parere su questo altro lucchetto che dovresti avere lì tra le mani, ho sbaglio. Esatto, sì, sì, è qui con me. Infatti ti dico subito che, allora, partiamo dal presupposto che non esistono serrature sicure al 100% e non tutte possono essere aperte. Non dimentichiamoci però che considerare che anche il sistema più efficace diventa inutile se non si adottano appunto accortezze di base come ho spiegato tante volte, ad esempio bloccare il monopattino o la nostra bicicletta ad un bel palo resistenza, insomma, in una zona illuminata, non nel baruccio dietro l'angolo perché non troverete niente. Poi questo qui in specifico, questo considero il Kryptonite Evolution un strumento di blocco veramente, veramente efficace. Innanzitutto è robustissimo e poi pensate che questo, in particolare Kryptonite, su questo modello offre una protezione appunto antifurto che è un programma che rimborsa i clienti registrati per un importo monetario specifico nel caso in cui la loro bicicletta o motocicletta o monopattino vengano rubati a causa dell'apertura o rottura, manipolazione della serratura con la forza. Certo, la copertura non è un'assicurazione per la bicicletta e non è prevista alcuna affiliazione con una compagnia di assicurazioni. L'offerta è esclusivamente amministrata da Kryptonite. Ma vediamo ad esempio come funziona. Se la tua bici, il tuo veicolo vengono rubati che cosa fa Kryptonite? Ti ripaga l'importo minore tra il costo del veicolo e la franchigia assicurativa. Quindi questo è già un buon motivo per acquistare questo blocco, questo dispositivo di blocco. Qui in Canada, ad esempio, negli Stati Uniti arrivano fino a 2.500 dollari di copertura. Quindi se ad esempio a me... Ma un monopattino ce lo dovremmo ricomprare con 2.500 dollari. Assolutamente, sì, chiaramente. Perché qui in Canada, io poi sono andato anche a vedere perché ho contattato l'azienda qui in Canada ed effettivamente è così. Basta che tu porti la denuncia del posto di polizia, il luogo dove è avvenuto e se per caso era sotto una telecamera addirittura ti staccano l'assegno immediatamente. È una cosa che io ho riscontrato, una serietà incredibile di questa azienda. Allora, questo lucchetto, il Kryptonite Evolution, addirittura ha un livello di sicurezza 7 su 10 che loro ritengono intermedio, ma per me è altissimo. Io lo considero molto avanzato perché ho tentato di aprirlo. Sì, ho tentato adesso ad oggi una decina di volte, ti dico la verità, e non ci sono riuscito. E tutte le volte dedico 30-40 minuti, non di più perché poi va in blocco il cervello. Cioè nel senso che quando tenti di aprire una serratura e non riesci, subentra poi l'adrenalina, cioè comunque il nervosismo, eccetera. Quindi devi mollare e riaprire. Io così stato in te avrei già preso il flex, avrei iniziato a segarlo, ho detto, ah, vediamo adesso chi vince. Io ho tentato. No, e non vinci perché ti dico la verità. Anche contro strumenti di taglio come flessibili, molette, queste cose qui, a parte che fanno un rumore tremendo, ma impastano la lama perché questo tipo di acciaio è fatto in modo da impastare la lama, fare un fumo tremendo. E quindi, sì, 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 e quindi ti dico la verità, sarebbe quasi impossibile continuare. Ovviamente vi lascio il link in descrizione del Kriptonet che ha tra le mani Domenico, che oltretutto è stato anche per un breve periodo in offerta. Se volete abbiamo anche il nostro canale delle offerte, quindi se volete andate a dare un occhio anche lì, che è molto valido. Ora, scusami Domenico, se ci vuoi far capire per quale motivo scegliere questo lucchetto piuttosto che un altro. Certo, allora, innanzitutto consideriamo il peso di questo blocco. Io l'ho pesato, è oltre un chilo di acciaio, penso che sia acciaio 430. Lo spessore dell'arco è di un centimetro e mezzo, ed è una cosa incredibile. Anche la forma, cioè la distanza appunto tra un arco e l'altro, cioè tra i due bracci, è fatta in modo da non poter inserire una pinza, ad esempio, di quelle che usano adesso oleodinamiche per spezzarlo. Non è facile attaccare questo tipo di lucchetto. Anche il barilotto che contiene quella serratura diabolica a lamelle è spesso 35 mm, cioè sono 3,5 cm di acciaio. Quando io ho visto la chiave, che adesso la stiamo inquadrando, la sto inquadrando, ha 7 tagli, ma credo che siano 7 tagli fatti da una macchina laser, perché comunque sia, o delle frese miniaturizzate, perché è fatta veramente bene. Io già quando ho visto la chiave ho detto starà difficile manipolarlo. Ne ho manipolati altri, ma questo, ti dico la verità, non sono ancora riuscito a manipolarlo. Ce l'ho qui, adesso vi farò vedere. Quindi adesso te hai fatto vedere la chiave del tuo. Io ho qua la chiave delle manette. Questa è la chiave delle manette. Una serratura tubolare, come diceva Domenico, mentre... La sto inquadrando anch'io, quindi la stavamo vedendo. Ok, e quella lì è la chiave del Kryptonite. Yes. Quindi diciamo che già una prima scrematura degli oggetti di sicurezza è controllare con che cosa si devono aprire. Esatto. Quindi io ingenuamente sono andato a prendere una cosa che aveva una chiave molto semplice, quindi forse è più facile aprirlo che romperlo. Sì, potremmo dire di sì. Questo è difficile da manipolare. Io lo farò adesso in diretta, vi farò vedere esattamente che cosa c'è all'interno. Dai, facci vedere un pochino come si può andare ad agire sulla sedatura. Cosa fanno, ovviamente. Esatto. Allora, innanzitutto, questo è appunto il nostro Kryptonite, il nostro dispositivo. All'interno abbiamo, adesso facciamo uno zoom, così, eccolo qui. Allora, all'interno abbiamo, vedete come è fatta l'entrata, è un foro e si vedono delle lamelle. Ora, io con questo attrezzino allineo le lamelle in questo modo, in modo da poter permettere al mio attrezzo di entrare. E poi qui ho un piccolo endoscopio. Voilà, dovremmo esserci. Allora, vi faccio vedere esattamente che cosa avviene. Riuscite a vedere il piccolo schermo del... Eccolo qui. Il piccolo schermo del mio telefonino, vedete? Allora, io adesso avvicino il dispositivo di blocco. Eccolo qui. E voi dovreste vedere all'interno le lamelle. Vedete come sono fatte? Ecco qua, c'è un po' di riflesso. Adesso lo spostiamo. Eccolo lì. Lì ci sono le sette lamelle più una che ci impediscono praticamente di manipolare questo particolare lucchetto. Perché ogni volta che voi... Adesso io introdurrò il mio strumento all'interno. vedete quando il palpatore entra all'interno che cosa fa? Va a girare vedete le lamelle. Ogni qualvolta si tenta di girare una lamella in pratica c'è un sistema all'interno di micromolle o dischi a pressione che riporta la lamella in posizione. Quindi se non inserite esattamente la chiave con la cifratura rimane impossibile aprire questo tipo di serratura. Non sono riuscito ancora neanche ad aprirla all'interno proprio per vedere com'è fatta perché comunque il blocco è molto molto resistente. C'è la possibilità di sezionarlo ma ci vorrà del tempo. Quindi fino a che questo non accadrà io ritengo questo lucchetto assolutamente sicuro. Ripeto io ho tentato più di una decina di volte di aprirlo non ci sono riuscito perché c'è un sistema all'interno che rende inefficace la manipolazione con ogni tipo di grimaldello attualmente sul mercato. Il ladro arriverà con delle pinze idrauliche che faranno una pressione di qualche tonnellata quindi vi taglierà comunque il vostro lucchetto e andrà via col vostro monopattino. Ma questa è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia anche perché ti dico la verità esistono queste pinze idrauliche ma a parte il costo sono veramente molto costose e nel momento in cui comunque rompono il lucchetto fai conto che il colpo che viene generato dalla pressione cioè la pressione acustica è talmente elevato che sembra quasi un colpo di pistola. Aver dato per strassicuro un lucchetto che poi non è mi faceva star male a me proprio come con la mia coscienza non riuscivo a farmela andare giù. Io ovviamente ringrazio Domenico perché il suo sapere mi ha aperto gli occhi poi Domenico non è detto che questo sia l'ultimo video che possiamo fare insieme magari riesce a trovare qualche cosa di più sicuro oppure riesce a trovare il modo di aprire anche l'altro lucchetto il Crypto Knight noi ci dobbiamo rivedere sappilo. Assolutamente sì anche perché io ti ringrazio di questa cosa perché mi dai la possibilità appunto di dire che il lockpicking come dici tu è utile perché ci rende in grado di scegliere il tipo di strumenti di blocco a cui affidarci perché in effetti chi conosce il lockpicking conosce appunto le debolezze quindi seguendo il mio canale seguendo il tuo canale le persone dicono accidenti no aspetta io devo proteggere questa cosa cosa mi hanno detto i ragazzi di Laco cosa mi ha detto Domenico cosa mi ha detto allora è meglio che scelgo questo cioè li consigliamo va bene ragazzi io spero che questo video vi sia stato soprattutto utile acquistare un monopattino vuol dire acquistare un mezzo e avere il modo di proteggerlo per evitare di non trovarselo più al palo dove l'avete legato è una di quelle cose fondamentali io comunque ringrazio tantissimo Domenico per il tempo perché me ne ha dedicato tantissimo è stato non gentile di più perché ci siamo sentiti altre volte prima di questo video lui è sempre stato molto 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 disponibile oltretutto avendo così un bagaglio di nozioni di sapere così ampio cioè io non è che lo dico perché è qui e mi sente ma vi assicuro che stareste lì ad ascoltarlo per delle ore poi mi direte anche voi anzi lasciatemi i commenti giù nel video perché voglio sapere anche voi la vostra la vostra idea cosa ne pensate quindi ma adesso io Domenico ti darei un arrivederci perché sicuramente ci sarà modo di risentirci arrivederci per un altro video sicuramente e mi raccomando andate a seguirlo anche nel suo canale perché è molto 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 carino sì seguiteci tutti ragazzi perché siamo come si dice affiatati vi consigliamo per il meglio e state tranquilli che con me vi divertite di sicuro a manipolare con Alfredo e gli altri ragazzi invece insomma vi consigliano anche perché i miei figli poi vedi papà sì adesso seguo anch'io voglio monopattino eh ok vabbè meno male ok dai anche di là sì no dall'altra parte dell'emisfero ma è bello è bello perché internet deve è bello che faccia queste cose che unisca bellissimo e mi piace usare internet così in maniera costruttiva questo è bellissimo ok un saluto a tutti allora grazie ancora ragazzi ciao ci vediamo nel prossimo video ciao domenico ciao ciao